Buon pomeriggio a tutti, sono Francesca Nafissi, account manager di Waystown e vi do il benvenuto a questo terzo appuntamento del ciclo di Webinar Gap, gestione agile della pubblica amministrazione. Un ciclo che ovviamente nasce in seno alla Civic Tech Academy di Waystown e questa volta con una collaborazione importante per noi, quindi con stati generali dell'innovazione che è appunto per i pochi che non la conoscono una rete di associazioni, organizzazioni ed enti che da anni proprio promuove la costruzione di una prospettiva condivisa per un cambio vero delle politiche di innovazione in Italia e questo ciclo di incontri proprio sulla gestione della agile della pubblica amministrazione nasce proprio dalla sinergia e divisione che abbiamo condiviso con stati generali dell'innovazione su appunto queste tematiche. Questo ciclo è composto da sette incontri, questo appunto è il terzo che si ritengono tutti i giovedì, alcuni la mattina, altri il pomeriggio. Tra l'altro invito chi non ha seguito quelli precedenti anche ad andare a vedere le registrazioni degli eventi passati, insomma che sono stati interessantissimi e continueranno ad esserlo. Io ci tengo innanzitutto a ringraziare gli enti che hanno sostenuto e tracinato l'evento, quindi questo ciclo, che sono Assintel, il Comune di Perugia, Esri Italia, l'Associazione dei Comuni Virtuosi, Innova IAB, Uncem, la provincia di Perugia e Asvis. E quindi ringraziamo, come vedete c'è una rete che sostiene appunto progetti come questo perché proprio ci crediamo a questo tipo di modalità di cultura che viene trasmessa in questo modo. Allora, con noi oggi ci sono tre ospiti, Flavia Marzano che è stata con noi anche nel secondo appuntamento, che oltre ad essere informatica e consulente di Repubblica Amministrazione è anche fondatrice ed ex Presidente degli Stati Generali dell'Innovazione. Ci sarà poi Roberto Reale e Nazareno Prinzis Valli. Io lascio a questo punto la parola direttamente a Flavia, che ringrazio ovviamente per essere qui con noi. Buongiorno e grazie a te, grazie a voi, grazie a chi ci sta ascoltando. Mi hanno appena chiesto il link della diretta, se per favore me lo mettete nella chat privata così lo inoltre. Ben trovati davvero, sono contenta. Perché questo è un pensiero che ho da tanto tempo e spero di riuscirlo a maturare. L'idea che adesso vedremo con le slide che Francesca carica è di un altro, visto che ci abbiamo fatto GAP, che è un acronimo, ne facciamo un altro, che è MAP, che è il manifesto per l'agile management nella pubblica amministrazione. Quindi l'idea di provare quantomeno a far sì che anche la pubblica amministrazione diventi agile. Velocissimamente, per chi non mi conosce, sono informatica, queste sono più o meno le mie parole chiave, ma andiamo avanti che è poco importante, diciamo siamo qui per condividere questo punto. Partire dai principi del manifesto agile, il manifesto agile, che in realtà è di vent'anni fa, era del 2001, provare a partire per vedere come si può e se si può declinarlo tutto o in parte in ottica di gestione della pubblica amministrazione. Quindi gestione sia dal punto di vista della politica che della dirigenza della pubblica amministrazione. Andiamo avanti con un paio di slide di Luca Venturella. Per chi di voi ha seguito la settimana scorsa, ha visto appunto questa definizione dell'agile manifesto, che parte da individui e interazioni, software funzionante, ora poi vedremo come adattarlo ovviamente a quello di cui stiamo parlando ora, collaborazione con il cliente, in questo caso sarà con il cittadino, e risposta al cambiamento. Di cambiamento si sente parlare tantissimo, in particolare in questo ultimo anno di pandemia, la pandemia ci ha sicuramente trasformato, ci ha obbligati a cambiare, a cambiare tantissimo, compreso questo incontro che due anni fa avremmo fatto di persona. Ha dei pro e dei contro, come sempre, ma l'idea è come rispondiamo al cambiamento, come ci muoviamo nella direzione del cambiamento. Andiamo avanti con la successiva, che dice che cosa significa essere agile. È una sorta di formamentis, appunto, che ha quattro valori di base, che ora vedremo, guidata da dodici principi e poi sono tante le pratiche di adozione. E andiamo avanti. Quindi, è un termine, abbiamo detto, nato così, i metodi agili preferiscono la comunicazione in tempo reale, preferibilmente un faccia a faccia a quella scritta, quella documentale, cartacea. L'obiettivo è la soddisfazione del cliente, io ho aggiunto la parola cittadino ovviamente, perché di questo stiamo parlando, e non soltanto l'adempimento di un contratto. L'adempimento di un contratto forse è la cosa più frustrante che ha un cittadino, perché quando si sente dire questa è la normativa vigente, si fa così, punto, va bene. È chiaro che è l'adempimento di un contratto o di una regola del gioco, forse si può provare a venire insieme, e questo vedremo anche come, a più facili relazioni tra cittadino e pubblica amministrazione, anche grazie all'agile management. I valori, dicevamo, sono quattro. Individui e interazioni più che processi e strumenti. L'interazione tra individui è preziosa. Devo dire che con questo anno di pandemia ce ne stiamo accorgendo ancora di più. Il software funzionante più che documentazione esaustiva. La collaborazione con il cittadino più che negoziazione dei contratti. E rispondere al cambiamento più che seguire un piano. Quindi che cosa ci sta chiedendo in questo momento il cambiamento? Che cosa ci stanno chiedendo la realtà, le persone? Diamo avanti. Questi sono i dodici punti. E poi io mi fermo qui e passo la parola alle altre due persone. I dodici punti, ripeto, di vent'anni fa, che come vedete, sono mappati sul sviluppo del software, ma vedrete che sono sicuramente facilmente adattabili a quello che stiamo cercando di fare. La nostra massima priorità è soddisfare il cliente rilasciando software di valore fino da subito e in maniera continua. L'obiettivo della pubblica amministrazione è soddisfare il cittadino. Poi come? Vedremo. Accogliamo i cambiamenti nei requisiti, anche a stati avanzati dello sviluppo. I processi agili sfruttano il cambiamento a favore del vantaggio competitivo del cliente. Ovvero, ci sono i cambiamenti abbondantemente, li abbiamo visti, ma anche soltanto le nuove tecnologie. Ci sono tecnologie che cominciano e finalmente continuano a essere usate. Poi ci sono problematiche di divario digitale, su cui sia infrastrutturale che diciamo che di competenze, ma sempre meno, nel senso che ci sono poi i giovani, che per fortuna sono invece un po' meno sofferenti di divario digitale. Quindi cambiano i requisiti, dobbiamo accogliere questi cambiamenti e quindi cambiare i requisiti. Consegniamo frequentemente software funzionante con cadenza variabile, qui si parla di un paio di settimane, un paio di mesi, preferendo periodi brevi. Abbiamo deciso che facciamo quella cosa entro quando la faremo? Entro un anno? Ok. Andiamo ad andare a far sapere quali sono gli stati d'avanzamento, a che punto siamo e perché. Quindi anche se vogliamo un po' di rendicontazione, di solito l'amministrazione, per esempio in politica, quando uno si fa eleggere a sindaco, presidente di regione o a presidente del Consiglio o ministro, ha le sue linee programmatiche, dice nei prossimi cinque anni farò queste cose. Poi di solito si spegne lì, invece sarebbe opportuno che, non dico tutti i mesi, tantomeno tutte le settimane, ma trimestralmente, semestralmente, per accountability, come si dice, per rendicontazione, far sapere a che punto siamo. Avevo detto che facevo questo, ho iniziato e sono arrivato a questo punto. Arrivo al punto 4, committenti e sviluppatori devono lavorare insieme, quotidianamente, per tutta la durata del progetto, perché anche qui faccio una gara per rifare il sito della mia amministrazione. C'è il committente, quindi quello che vince, io sono il committente, perdona, io ente, poi c'è lo sviluppatore, che è quello che vince la gara, poi in realtà ci sono anche i cittadini, che sono gli utenti, che andranno poi ascoltati e vedremo come, ma se si lavora insieme, per tutta la durata del progetto, non è che io ti do a te sviluppatore, l'incarico, buon lavoro, ci vediamo quando hai finito, perché si va appunto per stati d'avanzamento. Fondiamo i progetti su individui motivati, la motivazione delle persone è preziosa e diamo loro l'ambiente e il supporto di cui hanno bisogno e confidiamo nella loro capacità di portare il lavoro a termine. La fiducia e il rapporto reciproco è alla base, questo sempre e comunque, del lavoro in qualunque entità, in realtà anche nel privato. Andiamo con la 6, che è una conversazione faccia a faccia, il modo più efficiente ed efficace per comunicare con il team e all'interno del team. Mandare una mail a 100 persone, anche solo 10, anche solo 5, che sono quelli del team su cui si sta lavorando, ha un senso, ma parlare, che poi è quello che si fa nell'agile management, appunto nello sviluppo software, tutte le mattine ci si incontra, poco, alla stessa ora, in piedi, perché deve durare poco, ma tu che cosa hai fatto, perché, a che punto sei, quali problemi hai trovato, che cosa farai domani. Serve appunto per comunicare meglio all'interno del team, serve per sapere, io rispetto al mio collega, a che punto sono, come potrei farmi aiutare o come potrei aiutarlo, come possiamo fare meglio insieme. Il software funzionante è il principale metro di misura del progresso, noi vedremo come tradurlo in pubblica amministrazione, questo. I processi agili promuovono lo sviluppo sostenibile, ora credo che non ci sia nessuno che non sia concorde su questo, che lo sviluppo di quello che stiamo andando a fare ha maggior ragione nella pubblica amministrazione deve essere sostenibile e qui sponsor, sviluppatori e utenti, quindi cittadini, dovrebbero essere in grado di mantenere indefinitamente un ritmo costante di collaborazione. Appunto, ho fatto il sito, bene, l'abbiamo fatto bene, sì, l'abbiamo fatto chiedendo ai cittadini di supportarci nel renderlo più fruibile, più accessibile a quelle che sono le loro esigenze, l'abbiamo, poi il sito procede nel tempo aggiungiamo strumenti, elementi, quindi ricontinuare il processo indefinitamente di collaborazione e partecipazione e la continua attenzione all'eccellenza tecnica e alla buona progettazione esaltano l'agilità. Abbiamo quasi finito, sono gli ultimi tre punti, la semplicità, quindi massimizzare la quantità di lavoro non svolto è essenziale, si può fare, le architetture, i requisiti, la progettazione migliori emergono da team che si auto-organizzano insieme, decidiamo chi fa che cosa e quando, se viene calata dall'alto spesso non funziona e a intervalli regolari ancora una volta il team riflette su come diventare più efficace dopodiché regole adatte al comportamento di conseguenza, quindi una sorta di feedback continuo e costante. Andiamo avanti ma solo per dire altre due slide, nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa, io sono certa per quella che è la mia storia, la mia esperienza che in qualunque cosa abbia fatto se si condivide, si fa con persone con competenze diverse, ognuno con la propria tessera del puzzle, con la propria competenza e la propria capacità si riesce a fare di più e meglio, quindi su questo vorrei lavorare anche oggi, poi da oggi in poi non credo che nelle prossime tre quarti d'ora riusciremo a fare tutto ma sicuramente possiamo iniziare un cammino che continueremo volentieri insieme. Nella slide successiva ci sono semplicemente i miei riferimenti quindi chi volesse rintracciarmi e ovviamente anche il fatto che questa slide, tutte le slide sono rilasciate sotto licenza Creative Commons proprio nell'ottica di condividere la conoscenza. Quindi io mi fermo qui, chiedo invece a Roberto Reale e a Nazareno Princivalli che sono le altre due persone che con noi oggi discuteranno questo manifesto per renderlo adattato a quello che dicevamo. Roberto, se concordi la parola è tua. Magari ti presenti, ti ha già presentato in parte Francesca, ma... Certo, certo. Grazie Flavia, grazie a chi ci ascolta, grazie soprattutto alla organizzazione di questo evento, in particolare alla regia e appunto a Francesca, Francesca Nifissi che ci coordina. Chi sono io? Molto, molto rapidamente qui intervengo come presidente di Eutoken, un'associazione di cui sono parti, sono soci anche, possiamo dirlo, anche Flavia e Nazareno. Ci occupiamo di progettazione europea, ci occupiamo di monitoraggio, valutazione degli impatti, di pianificazione, di trasparenza della pubblica amministrazione. In generale vogliamo essere un centro di competenza a disposizione della pubblica amministrazione ma anche a disposizione di cittadini e imprese nel momento in cui devono interagire con la pubblica amministrazione. Cosa penso dell'idea di Flavia? Ne penso molto bene, devo dire, non per amicizia ma perché mi sembra una mossa coraggiosa. Io parlo, ecco, penso ad alta voce in questo momento, non ho un canovaccio, non ho un canovaccio, non ho un discorso già scritto, quindi dico in tutta sincerità quello che mi sembra possa emergere dalla proposta di Flavia. Innanzitutto perché è coraggiosa, perché trova a costruire un ponte tra due mondi completamente, almeno in apparenza completamente diversi, due mondi lontani, due mondi che non si parlano e questo Flavia l'ha sempre fatto, ha sempre provato a mettere insieme il mondo della pubblica amministrazione e della politica intesa come in modo molto semplice con la P maiuscola nel senso la politica che prova ad avere alcuni interessi dei cittadini e dall'altra parte invece il mondo della digitalizzazione prima si diceva dell'informatica dopo tutto questo non è una brutta parola vedo anzi che Flavia ci tiene a parlare di sé come di una informatica o di una esperta di informatica e sono due mondi appunto in apparenza inconciliabili ma sono due mondi che possono entrare in contatto che possono parlarsi e che oggi secondo me più di ieri hanno da imparare l'uno dall'altro quindi in particolare il manifesto di il manifesto del 2001 sul cosiddetto manifesto agile o manifesto agile in italiano diventa un punto di partenza per la costruzione di una proposta che prenda da quel manifesto i principi e li trasponga in azioni concretamente attuabili nel caso della pubblica amministrazione dobbiamo anche dire che oggi la pubblica amministrazione si trova di nuovo sotto i riflettori per tutto un concorso di cose in particolare abbiamo avuto un cambio di governo che quantomeno in termini programmatici intende rimettere al centro le competenze e naturalmente le competenze essenziali per il funzionamento della macchina Italia ci sono quelle in capo alla pubblica amministrazione questo non soltanto da un punto di vista e con di narrazione ma anche da un punto di vista di negoziazione tra pubblica amministrazione in quanto in quanto in quanto soggetto in quanto in quanto stato e ad esempio sindacati dei dipendenti dell'APA sono temi che sono stati rimessi sul tavolo nelle ultime settimane c'è stato anche di recente un incontro tra il soggetto pubblico la RAN che si occupa di rappresentare le istanze negozia le istanze appunto dello Stato sui tavoli di negoziazione con i sindacali ma allora in modo quello che mi sembra stia emergendo appunto è la necessità di ripensare il modo in cui le competenze della pubblica amministrazione si sviluppano e soprattutto il modo in cui vengono acquisiti all'esterno vengono incentivati vengono premiati e vengono poi anche messe all'opera per poter ottenere dei risultati concreti questo dal punto di vista della pubblica amministrazione però Flavia aggiunge un ulteriore elemento appunto quello della politica con la P maiuscola che dicevamo prima perdonate il cliché però abbiamo assistiamo tutti i giorni ad una politica che si occupa di questioni se vogliamo anche secondarie e di questioni che si appiattiscono sulla quotidianità e invece da verso c'è una politica che ha una visione che ha la capacità di poi mettere in di realizzare azioni concrete che possano quantomeno quantomeno parzialmente implementare quella visione e per far questo la politica ha un unico strumento la pubblica amministrazione quindi è essenziale il modo la metodologia con cui la politica e la pubblica amministrazione parlano questo mi sembra il nodo fondamentale della proposta di Flavia quindi considerare politica e pubblica amministrazione come un tutt'uno come qualcosa di simile a quello che nel mondo invece dell'informatica dell'altro mondo che dicevamo corrisponde all'insieme del team di sviluppo e dell'account manager o del project manager laddove dall'altra parte abbiamo invece il rapporto con il cliente che nel mondo della pubblica amministrazione si traduce nel rapporto con i cittadini e le imprese quindi manifesto agile per la pubblica amministrazione di management agile ma anche di project management agile questo è un punto sottile sicuramente il management in sé a gestione è una questione molto ampia che all'interno ha come sua declinazione come sua specializzazione il project management a gestione di progetti perché dico che è una questione importante perché la possibilità la capacità di mettere a sistema e di mettere anche a frutto le risorse che ci stanno venendo dall'Unione Europea legata alla capacità di gestire non soltanto in generale l'amministrazione ma di gestire progetti attenzione perché c'è un passaggio epocale su questo la disponibilità di risorse quindi il rimborso da parte della Commissione Europea rispetto a attività svolte a livello nazionale non è più subordinata alla capacità di spendere le risorse ma è subordinata alla capacità di produrre di raggiungere delle milestone e quindi la capacità di mettere in campo delle capacità di project management agile project management agile ed è questo che credo Flavia abbia voluto cogliere magari anche un po' precorrendo i tempi perché questo è qualcosa che vedremo nella pratica da maggio in poi quindi dal momento in cui ad esempio il piano nazionale di presa e resilienza sarà finalmente sul tavolo della Commissione e poi della Commissione Europea e poi operativo ottimo grazie grazie Roberto ci sono in effetti una serie di spunti che hai lanciato in particolare mi sembra prezioso il concetto del rapporto con i sindacati quando si parla di stakeholder normalmente si intende la pubblica amministrazione la politica le imprese l'università i centri di ricerca l'associazionismo come è raramente si includono i sindacati invece in questo contesto sono preziosi sono d'accordo con te tra l'altro nell'ambito della parola agile ultimamente è venuta fuori con forza nella pubblica amministrazione con i Pola che è il piano operativo per il lavoro agile è relativo al lavoro agile che è un'altra cosa rispetto al project management come giustamente lo chiami tu perché si chiama management ma project management entrambe le due cose sono preziose e quindi sicuramente questo è una cosa che mettiamo sul piatto perché è essenziale io direi che adesso diamo la parola a Nazareno e poi casomai ci interagiamo con domande ragazzi se a Nazareno c'è qualcosa rispetto a quello che ha detto Roberto benvenuto grazie buonasera a tutti grazie per questo prezioso invito sì Flavia parto dalle alcune considerazioni che ha fatto che ha fatto Roberto intanto condivido la sua osservazione sul coraggio di questa iniziativa che io infatti definirei sfidante sfidante è proprio perché è vero che siamo in un momento epocale ma è anche vero che di momenti epocali in cui la PIA ha avuto bisogno di cambiamenti è un periodo che sta cominciando a diventare piuttosto lungo nel tempo e tu Flavia in questo hai ancora più esperienze di me ci sono tantissimi aspetti Roberto per esempio ha giustamente toccato la differenza di rapporto tra PIA intesa come politica e PIA come pubblica amministrazione tra l'altro il bello di questo di PIA è anche che contiene in sé la parola politica con l'iniziale e la finale un po' come l'alfa e l'omega che poi è quello che dovrebbe essere il cuore il senso della politica e del rapporto con la pubblica amministrazione nei confronti del cittadino e della soddisfazione dello stesso che è quello che sarebbe il primo punto dei 12 punti del manifesto del software agile o agile che dirsi voglia io scusate procedo un po' in maniera apparentemente a macchia di a macchia di leopardo agilità è un termine che presuppone appunto una una certa scioltezza di movimento la capacità di adattarsi a cambiamenti piccoli piccoli e grandi nella pubblica amministrazione di questi cambiamenti piccoli e grandi diciamo se ne vedono se ne vedono spesso e in questo e questo è stato appunto e continua ad essere ancora oggi il uno dei dei vincoli della della pubblica amministrazione come come può la pubblica amministrazione superare questo questo gap avendo come obiettivo il percorso verso il map che hai introdotto nella prima nella prima slide quindi l'amministrazione agile sicuramente è quello di iniziare a come dire osservare un approccio nei confronti di se stessa nei confronti di se stessa che non può più essere soltanto quello normativo e giuridico in questo l'ormai famosissimo e diffusissimo rapporto del del mai abbastanza notato Massimo Severo Giannini del 1979 dove appunto si può leggere quanto semplicistiche siano state le le indicazioni dei dei giuristi nella nella pubblica amministrazione mentre invece non siano mai stati ascoltati abbastanza i cultori di scienze organizzative e da lì stiamo parlando del veniva osservato questo nel 79 quindi stiamo parlando di più di 40 anni fa e se più di 40 anni fa già c'era questo tipo di si poteva fare questo tipo di rilevo possiamo capire quanto come dire purtroppo cristallizzato consolidata possa ancora oggi nonostante tutta una serie di eccellenze che fanno ben sperare quando cristallizzata possa essere la situazione di una certa rigidità allora il in questo c'è un termine utilizzato dai nel manifesto nel famoso manifesto del 2001 che è quello dei dei processi ed è quello di cercare di renderli quanto più semplici possibili in questo e quindi l'agilità la semplicità diciamo si potrebbe per affrontare questo si potrebbe ricorrere sicuramente a quelli che sono un po' i principi di quell'altra metodologia ormai famosa ma probabilmente poco letta male nel senso della sua applicazione cioè il lean quella famosa metodologia prego mi scusi solo un istante perché tu hai già toccato due punti di fatto il primo punto del manifesto che dicevi che si potrebbe riadattare eccetera e questo invece sulla semplificazione dei processi dopo quando vorrai se proviamo a prendere facilmente locale a prendere i punti del manifesto e a riscriverli tanto sono veramente una riga due righe al massimo e a provare a riscriverli nell'ottica di quello che stiamo dicendo scusami per l'interruzione no 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 per carità anzi ti ringrazio benvengano perché siamo qua per questo e questo è un esempio appunto di quello che di una delle tante cose che mancano spesso nella PA cioè il confronto e la collaborazione per un obiettivo per un obiettivo comune è vero che la PA ha la necessità anche di avere per carità un sistema gerarchico una diversa attribuzione di responsabilità in relazione alle mansioni tutta una serie di cose però tutto questo non è vero che sia necessariamente inconciliabile con una capacità di ascolto e che ha anche quella voglia di capire di migliorare e il termine migliorare lo riporto a quello che stavo dicendo prima e cioè la metodologia Lean che tra i cui principi fondanti ha il miglioramento continuo ma come viene realizzato questo miglioramento continuo questo miglioramento continuo viene realizzato appunto attraverso l'ascolto di chi è sul campo c'è un termine giapponese che si chiama Genba cioè i dirigenti ogni ogni anno passano alcuni un paio di giornate nelle nelle fabbriche là dove ci si sporca le mani a cercare di capire il famoso Genba Walking le chiamano le passeggiate se vi ricordate se vi ricordate Adriano Olivetti che cosa ha fatto Adriano Olivetti questo faceva è andato a lavorare in fabbrica all'Olivetti prima di fare il manager così esatto sì 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 no per carità esempi di questi ne abbiamo anche in Italia abbiamo avuto sì assolutamente un sacco di operatori di imprenditori illuminati se mi se mi consentite una citazione in vernacolo in vernacolo siculo quasi dice che chi non sape fare non sape comandare cioè chi non non è non sa fare determinate cose avrà delle difficoltà poi a poter gestire effettivamente con efficacia a fare le cose bene in questo e questo è il senso un po' della del vecchio proverbio quindi tornando a noi questo che cosa quindi questo che cosa comporta comporta ahimè la cosa forse più difficile che c'è che è un cambio di mentalità infatti non a caso nell'incontro della settimana scorsa giustamente più volte avete parlato di mindset di come questo deve essere eh anche se forse il termine può sembrare brutto ma deve essere inevitabilmente un po' rimodellato e abbiamo bisogno di eh di dirigenti ma anche di politici come tu spesso come tu spesso ripeti che guardino a i problemi nella loro essenza che guardino quindi i problemi verso la ricerca di una soluzione che la ricerca della soluzione richiede la collaborazione di tutti come dicevi prima ognuno con le proprie competenze ognuno con le proprie anche esperienze a parità di competenze perché anche a parità di competenze ci possono essere esperienze diverse che ti portano a vedere la stessa cosa in maniera in maniera diversa e questo è solo un arricchimento se fatto con con metodo tutto sommato qua ancora siamo poi nell'ambito del buonsenso che cosa che purtroppo non sempre riesce a ad affermarsi se vogliamo andare un po' più sul metodologico da questo punto di vista e cercando di ricalibrarci nuovamente col manifesto si lavora per necessario iniziare a ragionare per processi processi che abbiano obiettivi ma questi obiettivi obiettivi che devono essere misurabili attenzione non devono essere posti soltanto alla fine del processo gli obiettivi devono essere anche laddove possibile in fasi posti in fasi intermedie del processo perché io devo arrivare a capire se ho bisogno di correzione di rotta lo devo arrivare a capire prima non quando arrivo anzi non arrivo a destinazione o arrivo a destinazione e la frittata e la frittata è fatta per fare questo abbiamo bisogno semplicemente di dare ai processi un'accezione che è un po' più completa che qualcosa di diverso di nuovo di più completo rispetto a quello che finora è stato fatto spesso nelle pubbliche amministrazioni e cioè il disegno del workflow abbiamo bisogno di indicatori abbiamo bisogno di parametri nelle varie fasi del processo ma per poter fare questo abbiamo bisogno di conoscerli per conoscerli abbiamo bisogno di ascoltare tutti quelli che vi partecipano e in questo ascolto di chi partecipa al processo riusciremo a scoprire dove si annidano gli sprechi e eliminare gli sprechi e quando la parola spreco poi in Italia viene ormai quasi pavlovaniamente associata alla pubblica amministrazione questo è un dato ahimè di fatto ecco lì questo dovrebbe essere il modo di procedere nel tornando andando invece al concetto di agile in Italia abbiamo tu hai citato prima abbiamo sì il piano organizzativo per il lavoro agile ma questo lavoro agile perché è stato inteso soltanto nel modo in cui si dovrebbe intendere il la propria partecipazione al processo lavorativo e nel senso di una scissione tra luoghi e tempi la scissione tra luoghi e tempi e quindi la quello che impropriamente come tu dici spesso viene definito smart working perché a quanto pare questa definizione è solo nostra cioè è nostra nel senso che è solo in Italia questa definizione di smart working però questo lavoro agile che ci porterà alla possibilità di essere affrancati dai rigidi concetti di luogo e tempo questo deve essere una deve essere la conseguenza naturale della rimodellazione dei processi nel senso che indicavo prima ma solo in quel modo riusciremo a far sì che l'ICT o tecnologie che dir si voglia chiamiamola come vogliamo possano effettivamente mostrare tutta la loro forza dirompente perché oggi ancora abbiamo in Italia abbiamo un panorama variegato dove ci sono oggettivamente amministrazioni di un certo tipo che hanno fatto passi da gigante ma ancora oggi ci sono amministrazioni per le quali i dipendenti si lamentano dell'avvento dell'informatica attenzione sto dicendo nel 2021 avvento dell'informatica ma ancora oggi ci sono dipendenti che di questo se ne lamentano perché secondo loro hanno complicato e a volte alcuni di questi hanno anche ragione ma perché questo succede perché appunto quella famosa analisi non è stata fatta apro una parentesi scusa ti interrompo perché manca quell'aggancio che c'è in uno dei punti appunto che è la collaborazione tra gli attori che è il politico che dà la visione il dirigente che fa la gara l'azienda che vince la gara che sviluppa la soluzione e il cittadino che poi è l'utente oppure l'amministrazione il funzionario che poi è l'utente di un servizio interno perché anche lì quando mai i funzionari della pubblica amministrazione sono stati interpellati perché per quando compro un software che ne so della ragioneria per gestire meglio però prendi e te lo usi ti faccio un corso di formazione se sei fortunato e finisci lì esatto se sei fortunato ma infatti in questo vedi c'è poi una come dire a volte nella pubblica amministrazione poi ci si trovano in momenti di sovrapposizione tra processi e progetti e riagganciandomi riagganciandomi di nuovo un attimo alla distinzione che faceva prima Roberto e cioè andando un po' al project management agile ma non dimentichiamo che la norma 1.11.648 che è quella sulla certificazione delle competenze di un project manager norma emanata cinque anni fa già comprende come dire molte soft skill che sono ritenute importanti per il miglioramento del risultato e quindi di un percorso per arrivare a una pianificazione e quindi a un risultato migliore non solo ma anche a una revisione in corso d'opera della pianificazione e questi stiamo parlando di una norma 1 che notoriamente sono magari possono avere un po' di come dire di approccio non predeterministico mettiamolo in questi termini ma lì sono fissate l'empatia l'ascolto il modo l'engagement di tutti gli stakeholder la comunicazione cioè stiamo facendo questo tu prima giustamente dicevi ogni sei mesi il politico perlomeno dovrebbe rendicontare quello che sta facendo ecco la stessa e questo è stato è statuito cioè io credo che quello che manchi come dire è un po' la la volontà la voglia di prendere cose che filosofie spiriti approcci considerazioni che ormai circolano e ci circondano non vorrei dire da decenni ma sicuramente da qualche anno ma non si riesce a farne una foresta ci sono piccoli orticelli disseminati nel territorio ma non si riesce a farne una foresta un bosco bello dove si respira aria nuova ecco questo ancora purtroppo non si riesce in questo sicuramente meritoria e e sono tutte le iniziative a cui tu dai energia ed impulso Flavia come questa qui per esempio appunto molto sfidante ritengo sai che però mi viene una domanda perché poi tu dicevi appunto empatia ascolto engagement comunicazione l'ascolto secondo me non c'è per due motivi da una parte c'è la politica che dice io ai cittadini non glielo chiedo faccio come mi pare perché io so dove voglio andare e tanto lui non mi capisce il cittadino che dice ma perché devo partecipare a questo anche fosse un processo partecipativo non so bilancio partecipativo tanto poi il politico fa come gli pare inutile che io perda il mio tempo va ricostruito questo rapporto e per questo ora il manifesto è stato chiaro che un manifesto è restatale poco più se non viene poi dopo applicato e attuato e condiviso sarebbe importante che ci fossero tutti gli stakeholder che cambiano la loro virgola per far sì che questo manifesto assomigli a tutti che integri tutti gli stakeholder di cui parlavamo tutti e tre poi di fatto che dici? ma guarda tu in questo con questa osservazione hai toccato vari punti permettimi di focalizzare intanto uno e cioè il fatto che si sia persa la fiducia da parte dei cittadini nei confronti della della politica e guarda proprio ieri ascoltavo quell'altra tua ammirevolissima omonima che è la professoressa Michela Marzano che parlava appunto proprio del si parlava del concetto di fiducia e del del fatto che vada invertito un po' il paradigma nel senso non bisogna dare fiducia dopo aver attestato l'affidabilità ma è la fiducia che poi genera affidabilità perché perché nel momento in cui io do fiducia a un mio collaboratore questo si sente responsabilizzato si sente motivato si sente coinvolto diventa affidabile e si innesta un circolo virtuoso che prima lo si rileva internamente alla pubblica amministrazione ma nel momento in cui è interno poi si rileva viene percepito immediatamente fuori se posso chiunque ha avuto figli adolescenti sa che funziona proprio così tanto io non mi fido lui si comporta in maniera che tu fai bene a non fidarti di lui se invece tu gli dici guarda io mi fido di te quindi ti do le chiavi del motorino oppure rientra pure all'ora che vuoi tu purché non oltre le oppure ti lascio il cellulare purché tu quando sei a scuola cresce la fiducia io mi ricordo appunto mio figlio adolescente che un giorno è tornato a casa dicendo prima che tu lo venga a sapere dagli altri sappi che io ho fatto questa cosa e era sbagliata perché gli ho dato fiducia se no non me l'avrebbe mai detto sperando che non me ne fossi accorta non me ne sarei mai accorta quindi la fiducia dopo non serve a niente perché se no ti devo mettere a prova hai totalmente ragione te la firmo veramente ma ma a parte il fatto che voglio dire la parola fiducia ha anche come dire un'origine etimologica che non è verifica non è un non è un check è appunto fides quindi e l'affidabilità è il la circolarità della poi della fiducia anche se una definizione impropria ma è appunto l'effetto quindi tornando a quello che dici tu sì non lo so facciamo leggere ai politici quel famoso brano dei miserabili quando scusami ah ecco Jean Valjean il protagonista dei miserabili che viene preso dalla polizia e che aveva rubato l'argenteria del suo primo benefattore nel corso della tua vita cioè il il vescovo e il vescovo anziché dire sì è vero non l'ha rubato ha detto no 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 glielo ho dati io in quel momento in quel momento è iniziato un percorso di cambiamento totale di miglioramento di quel protagonista che veniva da una storia personale come penso ormai più o meno conosciamo tutti che invece era di tipo delinquenziale criminale di assoluta diffidenza di assoluta mancanza di fiducia nei confronti della società facciamoglielo leggere facciamolo leggere loro facciamolo imparare o comunque piano piano come tanti piccoli apostoli nel corso delle nostre interazioni continuiamo a spargere questa questa specie di 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 o di mantra a seconda della di come lo si di come lo si diffonde non so io come vuoi per ora ci fermiamo qui poi vediamo ma hai fatto venire in mente un'altra cosa che mi è tornata in mente nella riunione precedente che facevo con una grande azienda del nord che si occupa di tecnologie in cui il l'amministratore delegato diceva siamo una squadra e l'errore è mio che è un po' come quello del vescovo sono io che ho sbagliato non tu ed è la stessa cosa che io ho detto ai miei quando ho iniziato a fare l'assessora una delle prime cose che ho detto alla prima riunione è noi dobbiamo sempre dire noi qualunque cosa succeda perché noi siamo una squadra e lavoriamo insieme quindi qualunque cosa bella sarà fatta sarà fatta perché noi abbiamo lavorato bene io sarò l'unica persona ad avere diritto a dire io quando qualcuno di noi avrà sbagliato e quella sarò stata io perché evidentemente se qualcuno della squadra sbaglia e lì l'errore che spesso succede succede nelle aziende ma nella pubblica amministrazione che si cerca il colpevole il colpevole non serve serve la soluzione questa è l'unica cosa di cui sono certa non so se nel frattempo c'è Roberto c'è ancora se vuole intervenire su quello che stiamo dicendo eccolo dici tu ti manca il microfono forse io non ti sento in questo momento eccoci eccoci perfetto perfetto mi sembra che sia stato detto sia stato detto molto ma forse una cosa io la aggiungerei cioè il fatto che se vogliamo ottenere risultati dobbiamo trovare il modo di rompere quei diaframmi quelle barriere che tutt'ora separano gli enti che rendono difficile che rendono difficile creare processi trasversali io questa cosa la tocco quotidianamente con mano ogni ente è geloso dei propri dati è geloso della propria ovviamente autonomia in termini decisionali in termini organizzativi che ci mancherebbe è garantita dalla legge però è anche vero che nel momento in cui io inizio a considerare io pubblico amministrazione inizio a considerare la mia controparte quindi cittadini e imprese come dei clienti o comunque dei soggetti a cui offrire dei servizi di qualità ecco la priorità diventa l'erogazione del servizio non può essere il mantenere degli steccati chiusi peraltro sul tema dei gatekeepers abbiamo visto che abbiamo visto soprattutto in questi ultimi tempi che è un modello che va un modello che va rottamato perché genera soltanto caos abbiamo come lo come lo rottamiamo come ma prima di dire come vorrei fare soltanto un esempio che è assolutamente emblematico il fatto ad esempio che l'AIFA l'agenzia italiana del farmaco nel giro di 24 ore ha cambiato completamente il proprio messaggio su un vaccino mentre il ministero dell'interno sul proprio sito istituzionale dichiarava che il messaggio che la news pubblicata dall'AIFA era una fake news quindi enti ricordate qualche giorno fa enti che dovrebbero lavorare soprattutto in questo momento a sfettissimo contatto non si parlano per nulla ieri o altri ieri scusa se ti interrompo ma questa è una cosa che vorrei che sapessero più persone possibile perché mi fa piangere diversissimi googlando andando su motore di ricerca cercando informazioni su la 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 mortalità di alcuni di alcuni farmaci non soltanto di vaccini ma anche di altri farmaci mi dava riferimento all'Inc AIFA i 3-4 riferimenti su cui c'erano queste informazioni erano tutti errore 404 cioè sul sito dell'AIFA avevano non so se rimosso cancellato per errore non lo voglio dire tra l'altro ecco scusate nel frattempo sono arrivati tre domande questioni da parte di Pasquale Volontà ve le leggo nella pubblica amministrazione il project management è poco praticato almeno da parte del personale interno ciò ha fatto la fortuna dei consulenti relative aziende specie su progetti UE vero l'altra è qualcosa è condivisibile nelle organizzazioni o aiuto o pipì vabbè quelle più che ops ho perso ah sì più che più per norma che per convinzione quasi assente dovrebbe dove invece dovremmo trovarlo progetti informatici quanto e quale monitoraggio si fa sui progetti informatici e poi dice paradossalmente l'agile management è presente ma non lo sanno nei piccoli comuni dove il responsabile del progetto opera di fatto in modalità agile e questo è vero in effetti forse nelle amministrazioni piccole è più facile perché metti insieme il sindaco lo incontri per strada il dirigente pure il cittadino anche e il fornitore probabilmente anche e quindi dice Pasquale sempre il manifesto agile è un'ottima occasione per fare un salto di release passiamo subito all'agile management formazione formazione anzi prima cultura cultura che dite? Prego Roberto dai ma tu mi avevi chiesto prima come non per inivare le domande ma mi avevi chiesto come superiamo i diaframmi tra gli enti ma secondo me lo dobbiamo lo facciamo con un'azione di forza nel senso che deve essere da un lato il legislatore che deve riprendere deve rimettere sul tavolo il famoso tema dell'embedamento costituzionale l'articolo 117 lettere per chi se lo ricorda quello che stabilisce che le competenze sui dati sono dello Stato non degli enti non delle regioni per il quale era stato proposto a suo tempo l'embedamento da Stefano Guinterelli a proposito del fatto che non si deve parlare soltanto di dati ma si deve parlare di processi perché è sui processi che si costruiscono i servizi uno quindi legislature e due deve esserci anche un'azione di forza secondo me dal governo dalla presidenza del consiglio che deve prendersi in carica la pubblica o chi per loro deve prendersi in carico il diciamo l'onere di costringere gli enti a sedersi allo stesso tavolo e lavorare a soluzioni comuni questo ripeto lo si può fare perché quando c'è la volontà politica come tu Flavia dicevi la volontà politica poi le cose si fanno abbiamo visto per esempio c'è la conferenza Stato-Regioni esiste abbiamo il ministro ora è una ministra per il rapporto con le regioni gli affari regionali questo dovrebbe essere il suo ruolo delle due entità diciamo dipartimento ministro e conferenza funziona? ma spesso ma spesso Flavia il il muro contro muro i compartimenti standi non sono soltanto tra Stato e Regioni ma sono anche tra enti centrali dello Stato o addirittura tra un ministero e i suoi diciamo le sue agenzie ma anche tra un dipartimento e un altro dello stesso ente se posso assolutamente esatto ognuno ha le sue priorità ha i suoi scopi statutarili quando ci sono previsti dalla norma e i suoi i suoi dati però bisogna andare secondo me oltre la lettera della norma bisogna cominciare a pensare appunto al cittadino come tu dicevi come ad un cliente al quale fornire servizi di qualità laddove invece ad oggi il rapporto è inverso e la pubblica amministrazione che se vogliamo in alto è il cittadino in basso questo rapporto va invertito e torniamo alla fiducia che diceva prima Nazareno se manca la fiducia reciproca tra cittadino e pubblica amministrazione ai noi rischiamo che non si inverta questo rapporto condivido che i silos sono un problema ovunque perché succede nelle imprese che c'è appunto il dipartimento A che non parla col dipartimento B succede nelle università che a distanza di tre stanze nello stesso corridoio due ricercatori fanno la ricerca sulla stessa cosa ma non lo sanno perché non se lo dicono e insieme farebbero prima e meglio probabilmente con risultati molto più efficienti per entrambi a costo minore ma quando ero assessora una delle prime cose che ho fatto è un assessment di che ho preso convocato in n giorni date diverse l'assessore con tutti i suoi dirigenti di primo livello di ogni singolo assessorato dicendo che cosa c'hai dal mio punto di vista quindi da parte dell'innovazione tecnologica software hardware soluzioni eccetera che cosa hai che cosa ti manca che cosa vorresti migliorare e ho trovato spesso ahimè soluzioni analoghe fatte due volte se non di più perché il dipartimento A aveva bisogno di quella soluzione che aveva già chiesto il dipartimento C e quindi due assessorati diversi che non si parlavano e sono state pagate due volte ovviamente le cose perché sono state fatte in maniera molto simile qui se vogliamo si potrebbe portare anche il concetto del software libero del riuso dell'adozione del riuso del software della pubblica amministrazione se fosse un po' più obbligatorio che non come ai noi ora nel codice dell'amministrazione digitale che c'è perché c'è la richiesta esplicita di adozione di software libero da parte della pubblica amministrazione preferibilmente rispetto ad altre soluzioni ma se poi non c'è ecco io tornerei qui al mettere in piazza di nuovo l'informazione e i dati magari anche i processi appunto come giustamente dicevi tu diceva Stefano Quintarelli ma io vorrei che venissero pubblicate queste informazioni è vero che io pubblico amministrazione che ho fatto un software e l'ho reso disponibile l'ho messo su una piattaforma online che è di developers e quindi online accessibile a chiunque chiunque può ma io sindaco di un piccolo ente magari ma anche grande ma con poche competenze digitali non so neanche che esiste non so neanche che cos'è è vero che uno poi mi può dire l'ignoranza della normativa non è consentita ma voi l'avete letto di sicuro voi due non ho dubbi ma chi c'ha voglia e tempo di perdere un po' di tempo che si legga il codice dell'amministrazione digitale se è un giurista fa fatica a capire la parte tecnologica se è un tecnologo fa fatica a capire la parte giuridica perché si incastrano andrebbe piallato se posso dire la mia opinione e ristrutturato in maniera comprensibile a un umano il problema è che ormai è più una groviera che un codice dell'amministrazione digitale è stato talmente massacrato negli ultimi anni che non sai più quali sono i commi abrogati i commi nuovi le varie poi le varie norme di secondo di secondo livello perché poi abbiamo tutte le linee guida alcune delle quali pubblicate altre ancora in cantiere altre ancora di là da venire così via tra l'altro Pasquale dice sempre nelle chat che è noto che i rapporti tra le direzioni in una PIA sono regolati dal diritto internazionale ma magari non lo so io non sono così sicura da questo punto di vista sì no scusate perdonatemi insieme mi sono inserito con questo vai vai io per quella che è la mia esperienza nelle pubbliche amministrazioni io ho notato una stratificazione di prassi e di regolamenti interni è vero che ci sono i vincoli normativi per carità è assolutamente giusto e necessario che ci siano ma è anche vero che molti procedimenti non voglio parlare in questo momento di processi perché non sono processi ma sono procedimenti amministrativi sono la risultante di abitudini spesso assolutamente ingiustificate in questo mi vorrei riallacciare a quello che stava dicendo che stava dicendo Roberto ma anche tu c'è il discorso dei silos allora un processo ben modellato è un processo che va è quello che viene tecnicamente definito end to end cioè cosa vuole il cliente nel nostro caso il cittadino cosa devo fare per arrivare a dar quel risultato in maniera qualitativamente accettabile se non è Celsa che sarebbe poi l'optimum e quindi come devo fare per arrivarci in questo inevitabilmente devo assolutamente passare attraverso i diversi dipartimenti allora una modellazione dei processi che tra l'altro non dimentichiamo che è statuita dal CAD da norme annuali è stata statuita in diverse finanziarie cioè quella famosa ahimè secondo me in propria definizione di mappatura dei procedimenti è una occasione che si è persa più volte perché se quella fosse stata fatta veramente bene e quindi tenendo conto di tutti i dipartimenti di tutte le unità di tutti gli uffici che contribuiscono in maniera diversa all'ottenimento di un risultato se quella fosse stata fatta bene sarebbero emersi i silos organizzativi i silos informativi scusate e sarebbero emerse tutta una serie di elementi migliorabili ci ponevamo la domanda cosa fare quali diaframmi abbattere ma qual è il primo diaframma da abbattere sarebbe già in chi prepara norme di diverso livello da quelle di rango primario alle linee guida spesso ahimè un po' scusatevi mi assumo le responsabilità del termine un po' sciagurate a cui assistiamo e che complicano la situazione io in occasione di questo incontro mi sono andato a spulciare l'agenda per la semplificazione che era prevista dal decreto legge 76 che poi è stato convertito il cosiddetto DL a semplificazione allora se lo si va a leggere con attenzione ma già le sue prime pagine si comincia a vedere una serie di piccole e grandi a mio avviso confusioni concettuali che lasciano perplessi per cui nel momento in cui tu come dire diffondi questo documento che deve fare da faro scusate l'apparente gioco di parole per le altre pubbliche amministrazioni ma è chiaro che non contribuisci allora dobbiamo iniziare lì faccio un semplice esempio prendendo da questa agenda me lo sono segnato scusate la pignoleria quasi alla non mi ricordo come si chiamava il marito di Magda nel famoso film Carlo Pertona a pagina 49 si dice che la realizzazione si parla della realizzazione un percorso finalizzato alla professionalizzazione delle stazioni appaltanti con azione di formazione e aggiornamento continuo sotto il profilo del project management bene quindi si accende all'importanza del project management fantastico ma nella successiva sezione del cronoprogramma quello che viene presentato come un cronoprogramma è solo una trasposizione grafica delle scadenze dei macro obiettivi che erano già descritte e tabellati nelle sezioni precedenti non c'è un percorso critico non c'è un elemento intermedio non c'è un deliverable non ci sono delle milestone cioè se tu vuoi diffondere una cultura nuova ma lo devi fare nel momento in cui realizzi le tue opere quindi già in questo avremmo un grandissimo bisogno di di revisione oppure come già nella premessa che si parla di di cronoprogramma e si parla di costituzione di un team per la risoluzione delle complicazioni burocratiche abbiamo finito la nostra ora ma non la vorrei finire così nel senso che vorrei finirla con proposta ok decidiamo di lavorare online decidiamo di fare un gruppo di lavoro facciamo un wiki ditemi voi che come possiamo continuare a lavorare per fare questo manifesto facciamo altri incontri un documento condiviso ditemi voi sì io penso che il documento condiviso sia la la cosa la penso che sia la cosa migliore poi sai ecco tu poco fa facevi l'esempio dell'all'inizio facevi l'esempio della macchinetta del caffè partiamo da un documento condiviso poi magari concediamoci anche qualche scambio via chat concediamoci anche qualche scambio via telefonico un altro incontro ok creiamo ecco cerchiamo di essere già il anche nel nel modo di di realizzare l'obiettivo Roberto eccomi eccomi che dici ma io quindi mi inviterei a accogliere un altro tuo suggerimento cioè appunto coinvolgere non soltanto diciamo la comunità dei tecnici o la comunità degli esperti ma appunto poi chi deve effettivamente mettere in pratica questa indicazione e quindi gli amministratori sia in quanto sia intesi in quanto public service ma sia in quanto politici quindi proverei a mettere su un tavolo tu mi dirai ma l'ennesimo tavolo ma non è l'ennesimo perché c'è l'intergruppo parlamentare volendola vedere esiste dal 2013 lo so perché è colpa mia c'è l'intergruppo parlamentare innovazione nel senso che erano appena stati eletti nel 2013 parlamentari di allora con stati generali con Nello Iacono che molti di voi sicuramente conoscono abbiamo fatto semplicemente una cena una cena in un ristorante con tutti i nuovi eletti che sapevamo essere tecnologicamente open minded uno era Quintarelli uno era Paolo Coppola uno era Palmieri c'era Irene Tinagli una serie di persone che adesso conoscono le abbiamo messi intorno a un tavolo delle toffate un intergruppo hanno detto sì e l'hanno fatto e anche lavorato adesso mi sembra fermo questo intergruppo o sbaglio ma a parte i vedi tinagli forse sono tutte persone che comunque pur avendo avuto incarichi politici però ricadono forse nella definizione di tecnici e di esperti io preferirei a coinvolgere la politica tu pur in grande quindi è come raccogliendo su una piattaforma su un documento condiviso eccetera un numero quanto più possibile alto di firme sia di parlamentari sia di esponenti dei partiti sia di esponenti di corpi intermedi come i sindacali che comunque vanno coinvolti e provando a far crescere questo lugar provando magari a far leva anche sulla lesione del singolo per portare dentro un po' come uno schema ponzi ma virtuoso quindi quindi a questo punto vediamo se chiedo a Francesca se torna con noi potrebbe essere una proposta che ci rincontriamo da qui a un paio di mesi tre mesi lavorando nel frattempo su questo documento condiviso per vedere se e come riusciamo a portarla avanti io nel frattempo ho preso un po' di appunti Sarebbe super interessante anche perché veramente occasioni come queste proprio allarga il cuore vedere che poi si concretizzano veramente non solo diciamo in una divulgazione culturale ma poi anche in qualcosa di operativo e sostanzioso che veramente possa fornire un contributo concreto e quindi da parte nostra super volentieri anzi saremmo assolutamente contenti anche di supportare il coordinamento e anche nei contenuti insomma di questo documento quindi molto volentieri io purtroppo siamo fuori tempo nel senso quindi dobbiamo infelicemente chiudere questo incontro e sono d'accordo con Flavia è stato molto interessante quindi era anche bello continuare a dare seguito insomma a questa conversazione io però devo purtroppo chiudere invito comunque le persone che stanno guardando sia la diretta ma anche che guarderanno le registrazioni a attivarsi e farsi sentire nel senso che siamo a disposizione per raccogliere anche commenti riflessioni e aprire anche esatto aprire anche questo questo momento di dibattito anche successivamente quindi invito tutti quanti a farlo saremmo veramente contenti detto questo io do appuntamento a giovedì prossimo ringrazio ovviamente tutti i nostri ospiti di oggi e do appuntamento a giovedì prossimo 15 aprile alle 11 quindi la mattina e sarà ospite con noi saranno anzi ospiti con noi Sergio Farruggia Andrea Taramelli e Maria Paradiso il tema invece del prossimo incontro sarà Geo Digital Humanities and Copernicus quindi avremo proprio il contributo anche di Sergio che ci porterà insomma in quest'altra dimensione io ringrazio tutti e vi do appuntamento giovedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti